È ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale. Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che il piacere dello shopping per l'acquisto di doni per le persone care ci faccia incorrere in potenziali truffe? Complice anche la ricerca di offerte convenienti ai tempi ormai ristrettissimi. Grazie all'esperienza acquisita nella tutela dei rischi di truffe online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti, temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza internet. Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute nell'anno corrente sono state più di 37.000. Sommate a quelle delle persone arrestate e denunciate ha richiamato l'attenzione della Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l'utenza ad un uso consapevole della rete e dei pagamenti online e contrastare nel contempo le truffe messe in atto sul web, anche attraverso la chiusura degli spazi virtuali. Si tratta di consigli particolarmente utili all'avvicinarsi del Natale e del Capodanno quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi. Complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo per i regali e in particolare per le case vacanza. Del resto, che la scelta di acquistare in rete sia legata anche alla possibilità di ottenere risparmi, oltre che alla comodità, afferma Annunzia Ciardi, direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, non è una sorpresa. Alcune ricerche confermano che il modello dell'acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono ad inserirsi con false vendite. Per questo motivo, conclude Ciardi, il nostro obiettivo è aiutare anche chi non è esperto a comprare in totale tranquillità. La Polizia Postale e delle Comunicazioni scende quindi in campo con un opuscolo che offre alcuni utili e pratici consigli, suggerimenti per muoversi tra i negozi online. Il Vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di Polizia di Stato online e sulle relative pagine Facebook e Twitter. Si raccomanda di utilizzare software e browser completi ed aggiornati e dare la preferenza a siti certificati o ufficiali.